Christmas Poker Event Eccoci al tavolo finale Oggi è domenica 19 di dicembre del 2010 Siamo su PokerItaliaWeb.org Ecco i nove finalisti che si stanno giocando la vittoria di questa CPE Conosciamoli, anzi viviamoli insieme Tavolo 1, Scatizzi Al tavolo posto numero 2 Lupinetti in bianco Al posto numero 3 Bertelli Al posto numero 4 Durso Oggi è qui lì e la manganera Al posto 5 La campanella Al posto numero 6 Montanella Al posto numero 7 Ora da questa parte col cappellino marrone Domi In fondo abbiamo Calabrese E al posto numero 9 Pavaretto Vediamo questo piatto Scegliamo insieme una mano Abbiamo visto il flop Asso 4 jack C'è un check Stanno giocando il piatto Montanella con i droni 75.000 75.000 Il bet di dome Se vedete Tra 15 gialle Da 25.000 Sono 75.000 E montanelli Fold Quindi il piatto Per domenica le reinventate Allora ci sono fixed la Anche Fiori Seg Platz